Dopo 228 giorni, dopo un K.O. tecnico che ha messo fine ad un'imbattibilità fatta di 19 vittorie, di cui 5 prima dell'ultima campana, un test medico per assicurarsi che le condizioni del pugile siano quelle adatte per tornare a disputare un match di box, Carmine Tommasone torna sul ring. Lo fa alla Tuscany Hall di Firenze, dove sfiderà il boxer Nick Raguenze, Brian Mairena, sulla distanza di sei riprese. Il pugile contraddese che poche ore fa si è sottoposta alla famosissima cerimonia del peso, riassaporerà quel dolce piacere del combattere. Dopo un'infinità di tempo, di contro, si troverà un pugile molto esperto che ha all'attivo 24 match per lui, 10 vittorie, 13 sconfitte ed un pareggio. Il sottoclù dei pesi piuma è inserito nell'evento organizzato dalla Matchroom Boxing Italy e dalla OP Science 82, che grazie alla collaborazione col colosso dello streaming da Zon, continuano ad organizzare riunioni di livello per rilanciare il pugilato italiano. L'evento vedrà il Match Club con Orlando Fior di Giglio difendere il suo titolo internazionale IBF dei Super Welter contro l'inglese Sam Eginton. Gli altri sottoclù vedranno impegnati altri pugili italiani. Oltre a Tommasone, tra questi Mohamed Obadi e l'ex campione d'Europa e sfidante mondiale dei Super Piuma, Davis Boschiero ed il 26enne imbattuto peso Welter, Dario Morello. Un appuntamento importante per tutti ma che per Carmine, Mr. Wolf Tommasone, sarà solo il primo della settimana che lo porterà il 26 settembre a convolare a nozze con la sua Laura.